benvenuti o ben ritrovati sul canale preparazione 2.0 oggi continuiamo il nostro viaggio all'interno della teoria della relatività di einstein siamo arrivati ormai al terzo appuntamento dopo aver mostrato quali sono i postulati alla base della teoria della relatività ristretta e cosa questi postulati abbinati all'utilizzo delle trasformazioni di lorenz possano implicare e dunque che tempi e lunghezze siano influenzati dal sistema di riferimento il che vorrà dire che per due osservatori in moto relativo i tempi e le lunghezze saranno percepiti o anche vissuti in modo diverso nei primi due appuntamenti abbiamo mostrato come utilizzando le trasformazioni di lorenz sia possibile dimostrare anche matematicamente quelle che sono le ripercussioni fisiche alla base della teoria della relatività oggi mi piacerebbe fare un passo indietro e mostrarvi come si possa arrivare alle leggi di trasformazione di lorenz in particolare vorrei mostrarvi come einstein stesso le abbia ricavate all'interno della sua opera divulgativa dedicata alla teoria della relatività ma entriamo nel dettaglio le trasformazioni di lorenz o più propriamente note come trasformazioni di lorenz fitzgerald sono delle trasformazioni di tipo lineare che permettono di effettuare il cambiamento di coordinate spaziali e temporali tra due diversi sistemi di riferimento furono introdotte per la prima volta nel 1904 dal fisico lorenz da cui appunto prendono il nome ed utilizzate nei suoi studi di elettrodinamica per dimostrare l'invarianza delle leggi dell'elettromagnetismo c'è da dire però che egli non ne fornì una base teorica ma come abbiamo anche visto negli appuntamenti precedenti nel 1905 albert einstein utilizzò queste leggi di trasformazione per dare fondamento matematico e dunque per fornire anche una dimostrazione di quanto asserito nella sua teoria ebbene oggi mi piacerebbe dimostrarvi come lo stesso einstein ricavò queste leggi di trasformazione a partire dai moti relativi tra sistemi di riferimento supponiamo di considerare due sistemi k e k' che risultino essere in moto relativo tra essi a velocità costante in particolare ipotizziamo che il sistema k' si muova a velocità costante v consideriamo il raggio luminoso che si muova in k lungo la direzione positiva dell'asse delle x a velocità costante c otterremo dunque che nel sistema k' la legge del moto sarà x uguale c per t e dunque x meno c per t uguale a zero ma visto nel sistema k' primo è considerato il fatto che il nostro raggio si muova a velocità costante otterremo che x primo sia pari a c t primo e dunque che x primo meno c t primo sia uguale a zero gli eventi che soddisfano la prima condizione devono necessariamente soddisfare anche la seconda e di conseguenza questo implica che le due leggi debbano essere tra loro proporzionali potremo quindi scrivere che x primo meno c t primo sia pari a lambda che moltiplica x meno c per t consideriamo adesso un raggio luminoso che si muova sempre in k ma lungo la direzione negativa dell'asse delle x sempre però a velocità c a questo punto otterremo che nel sistema k la legge del moto sarà x uguale meno c per t e dunque x più c per t uguale a zero otterremo invece che in k primo avremo x primo uguale meno c t primo e dunque x primo più c t primo uguale a zero a questo punto per le medesime considerazioni appena viste nel caso in cui il raggio luminoso si muova nella direzione positiva dell'asse x otterremo che x primo più c t primo debba essere proporzionale a x più c per t ma proviamo a mettere a sistema le due condizioni ottenute ipotizzando di utilizzare un metodo di riduzione per ricavare le variabili x primo e t primo in funzione di x e t e dunque le leggi di trasformazione tanto agognate supponiamo di sommare termine a termine le due equazioni in un primo momento e poi di sommarle sempre termine a termine otterremo a questo punto supponiamo che l'osservatore sia solidale con l'origine di k primo e dunque supponiamo che x primo sia uguale a zero dalla prima equazione otterremo dunque zero uguale a x meno b c t da a cui a x uguale b c t e dunque x uguale b su a c per t ancora dividendo tutto per t otterremo x su t uguale b su a per c ma x su t rappresenta la velocità con cui il sistema di riferimento k primo si muove rispetto a k e dunque v uguale b su a per c da cui otterremo che b su a è pari a v su c al fine di valutare come vengono visti punti x primo nel sistema di riferimento k dato il moto uniforme possiamo ipotizzare di scegliere una qualunque istantanea del moto ad esempio potremmo ipotizzare di supporre di valutare questa istantanea all'istante t uguale a zero per cui facendo sempre riferimento alla prima equazione otterremo che x primo è uguale a per x in maniera analoga per vedere come i punti x del sistema di riferimento k vengano visti in k primo possiamo ipotizzare di valutare una qualunque istantanea e dunque ad esempio considerare di effettuare la nostra valutazione nell'istante t primo uguale a 0 per cui dalla seconda delle due equazioni del sistema otterremo che a c t è pari a b per x e dunque che t è pari a b su a per x su c a questo punto sostituendo l'espressione di t appena valutata nella prima delle leggi di trasformazione che abbiamo ricavato in funzione dei parametri a e b otterremo che x primo è pari ad ax meno b per c per b su a x su c e di conseguenza che x primo è pari ad ax meno b quadrato su a per x a questo punto ipotizzando di raccogliere a fattore comune il termine a per x otterremo 1 meno b quadrato su a al quadrato ma ricordandoci quanto abbiamo trovato precedentemente e dunque che b su a è pari a v su c quindi otterremo che x primo è uguale ad ax che moltiplica 1 meno v quadro su c quadro supponiamo adesso di considerare in k una distanza unitaria e dunque in k un delta x che sia pari ad una unità ovviamente in k primo otterremo dunque che delta x primo sarà pari ad a per delta x che moltiplica 1 meno v quadro su c quadro e dunque che delta x primo sia pari ad a che moltiplica 1 meno v quadro su c quadro ricordando inoltre quanto abbiamo precedentemente trovato e cioè che x primo è uguale ad a per x applicando questa legge agli intervalli valutati in k e k primo otterremo delta x primo uguale a per delta x e dunque che delta x sia pari a delta x primo su a consideriamo adesso di prendere in k primo una distanza unitaria otterremo che delta x sarà pari a 1 su a ma poiché sono state considerate in k e in k primo due distanze equivalenti entrambe unitarie avremo quindi che delta x debba essere uguale a delta x primo e di conseguenza che 1 su a debba essere uguale ad a che moltiplica 1 meno v quadro su c quadro da cui a al quadrato è uguale a 1 su 1 meno v quadro su c quadro e dunque a uguale a 1 fratto la radice di 1 meno v quadro su c quadro a questo punto ricordandoci quanto avevamo trovato precedentemente e dunque che v su c è uguale a b su a potremo dire che b è uguale a v su c per a e dunque b uguale v su c per 1 su radice di 1 meno v quadro su c quadro come vedete siamo riusciti ad ottenere i valori dei parametri a e b espressi in termini delle grandezze caratteristiche del fenomeno fisico considerato di conseguenza ritornando le leggi di trasformazione trovate in funzione dei parametri a e b ed andando a sostituire le espressioni di a e b all'interno delle leggi di trasformazione otterremo x primo uguale 1 su radice di 1 meno v quadro su c quadro x meno v per t sulla radice di 1 meno v quadro su c quadro nella seconda ct primo uguale c per t sulla radice di 1 meno v quadro su c quadro meno v su c per x sulla radice di 1 meno v quadro su c quadro a questo punto esprimendo i termini a secondo membro sotto forma di un'unica frazione e dividendo la seconda equazione termine a termine per c otterremo le tanto agognate equazioni di trasformazione di Lorenz per cui x primo è uguale a x meno v per t sulla radice di 1 meno v quadro su c quadro e t primo è uguale a t meno v su c quadro x che moltiplica la radice di 1 meno v quadro su c quadro spero che anche questo approfondimento sia stato di vostro gradimento io vi saluto e vi aspetto nuovamente sul canale preparazione 2.0 ciao a tutti ciao a tutti